Ah, lì sopra, lo vedi? Che è fermo Ucciso Bravo Ma è morto a terra Aspetta, l'amico non c'è spuglio Posso avere visione? Ok E ragazzi, come va? Io sono Pierini E io sono Stefano, che è stato giocato a Fortnite Benvenuti in un nuovissimo episodio di Fortnite In cui andremo subitissimo a vedere la nuova location che è stata appena messa Oh yes! Hanno aggiunto una nuova città A tema orientale davvero, davvero carina Si chiama tipo Aprodo Avventurato, se ricordo bene Avventurato, sì Penso che ci andrà a metà game Sarà difficilissimo riuscire a sopravvivere lì Ma la vogliamo assolutamente visitare subitissimo Ovviamente aggiunta con un nuovo aggiornamento Che aggiunge anche la nuova arma Che proveremo in un altro video con più calma Però è davvero fantastica la città Quindi vogliamo andarci subitissimo Ma che bellina la città, guardala lì Si è andata già da qui Let's Che c'è? Non l'hai visto? No, che ti è successo? Ah, si hanno premuto spazio Ah no, vabbè, ma quello Stef 50 persone Non do per scontato che metà game molto probabilmente sarà qui Io punto alla torre sopra la montagna alla sinistra Ok La vedi quella alla sinistra? Io vado lì Va bene, va bene Tu vieni lì E beh, sì, no, stiamo insieme Qui non fa stare soli Il dragone vola nel cielo Non ha paura Non teme niente nessuno Ehi, è pieno di persone A parte i 40 player di questa città Possibilmente non mette la torre Dai, lasciatemi la torre, vi prego Dai Su, 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 da bravi Questa è nostra, l'abbiamo conquistata Guarda che bella la città, Stef Eh, lo so che è bella Bella Anche la gente è bella Allora Una ceste Bisogna salire su, però Oh, mamma mia Vedi, è sopra Aspetta Fai materiali Cioè, noi Stiamo davvero Iniziando così Vabbè, vabbè Sì Si inizia così per davvero Oddio, li senti gli spari Una ceste Una Per due Grazie, la caraffa Sopra non c'è nulla Allora Fere Sto per piangere Mission impossible Vedo gente che si spara Ok In questo palazzo di fronte a noi c'è il delirio È ovvio È il palazzo più grande mi sembra Guarda sotto di noi Quanta gente c'è da sparare ovunque Quanta gente c'è Posso uscire da con te Non posso fare Ok Guarda anche nelle finestre Se noi ammazziamo quelli di questo palazzo Sono abbastanza equipaggiati e non è male Vanno sul tetto Stai abbastanza giù Tu che tanto non hai armi Ok Eh, fa la tua sinistra Nel tetto Ok Ma chi è? Due che fai Terno contro i due del palazzo Bravi, bravi Continuate Vai Uccideteli per noi E poi noi vi uccidiamo Non so come Vai Qui sopra Ok, ok Bella, bella Con sorriso Bravi Bravi oggi Uniamo? No Ma come? Io sono piccone, Steph Vado a piccone Ma la sento Quanta gente c'è? Tanta Mi sparano da dietro, Steph Oddio Entra dentro Oddio Sono entrata Sono entrata Però arrivano da lì Arrivano, eh Mi sono presa un po' Un po' al volo Che devo fa Ok, 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 ok Che brutto fa, Steph Che brutto fa Calmo Calmo Non ridere così Non ridere così Che sembri un pazzo Steph, ti prego, eh Aiuto Non posso buttare questa Aiuto È pieno di gente, Steph Ancora che si spara qui fuori E io ho to di vita Mi prendo anche le granate Se mi vogliono Qua ci sono bende Ok, grazie E scillini Prendi anche le scillini Bella, bella, bella Perché io mi tiro la canata Prima mi tiro le bende Occhio, eh Senti bene se qualcuno arriva Ok, ok Erano poche le bende Cioè, non abbiamo Perché nessuna colpi Nessuna cose Non lo so Non lo so Già ho 40 colpi dell'M16 Ok, no Mi sembrava di sentire passi Invece no Eh vabbè Vabbè, prendo anche il cecchino Che devo fa? Ok Che devo fa? Secondo me abbiamo lottato 3 cadaveri su 4 Ok Non sarebbe male Però ho pochi colpi Poco tutto Poca vita Vieni di giù Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo, andiamo Andiamo, andiamo Ok, qua non c'è nulla di nulla Non ho niente materiali Almeno la zona è vicina Almeno quella Almeno quella Ok, qua ci sono colpi Ok, vai Ok Così posso usare quello verde Ah, ho paurissima Hai un M16, sì? Sì Il pompa ce l'hai? Sì Perché ce n'è uno qua fuori Anche se ho solo 4 colpi, eh Quindi Sopra i nostri test Lo sento Ci sono entrati in casa? Sì, andiamo via Via Via, 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 via Che alta Cioè, sta sembrando un film horror, Steph Lo so Occhio, faccio un ponte Ok Se ti avevo visto Una appena scesa Ok È qui, Steph Oh, mamma mia L'altro Sotto Cavolo Cavolo Mi hai dato Steffi, nuovo fucile Prendito Prenditi le mie 16 verde Ce l'ho già verde Che vuoi? Non ho colpi del pompa Niente Zero Uno Voglio risalire Come risalisco Dobbiamo luttare il tipo Come risalgo Non risalisco Sta dicendo come Quando panica Dice parole che non hanno senso Aspetta Ok, no Nuovo fucile Anche per me Tieni Sette colpi del pompa Grazie Quando ce ne andiamo Da sta città, Steph Ok, bello È tutto Ma è un po' ingiocabile Ma neanche l'abbiamo vista Noi Eh beh, certo Che cosa devi vedere La città Prendi mi servono Vai, prendi Saranno poche Ma mi servono Mamma mia Li hai prese? Sì, mi metto qui sotto Quante ne hai? Cinque Ok Ok, allora ti puoi Dico, tornare abbastanza alto Hai ancora scendini, no? No Peccato Te li hanno tolto tutto Ti hanno picchiato pesantemente Mi spiace E io ho tirato colpi Però vabbè Ero già bassissima Quindi comunque un colpo È normale che sembra Che mi levi un sacco di vita Perché ero già bassa Da quando non avevo le armi Ok Però vabbè Ce la stiamo calata Quanto chi l'hai alla fine? Cosa? Quante kill hai? Tre? Ok Abbastanza Abbiamo picchiato Abbiamo picchiato Nella città nuova Abbiamo picchiato Io l'avevo detto Mettete la scritta La città di Steph Perché l'avremmo conquistata Era ovvio Però Devo dire Carinissima Bellissima Mi piace un sacco Ma c'è poco Abbiamo il loot Di tutta la città Praticamente Perché abbiamo ammazzato Tutti quelli che c'erano Non ho materiali Non ho munizioni Non ho armi decenti No Abbiamo un nuovo fucile Che comunque è una cosa Che possiamo trovare A proposito Mira in modo strano Aiuto Non tirare colpito di Steph Sto sparando i palloncini Così Oddio L'avevo visto Va bene Vabbè sinceramente Mi metto il cecchino Che secondo me È un bel po' più forte Comunque Anche se è nuovo Non credo sia molto utile Ma lo proveremo meglio Ci spostiamo Dai ci serve luta Sì andiamo al po' Wow 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 Da dove? Non è possibile Da dentro Ma non eravamo gli ultimi Steph Non ero il re di questa Eccoli 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 Mi hanno buttato giù dal ponte Quindi faccio il giro Una terra Ok non so dove è l'altro Eccolo Ti prego Italo Ok l'ho hitato Ma continua a costruire Non ho più colpi Sono le mie 16 E passo Ok eliminato Ucciso Bravi Per la zona Corri Ok andiamo via Andiamo via Andiamo via Corri Prendo colpi Via 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 Non ho più colpi dal pompa Quindi me li sto prendendo Vado Scappo Prendi quello che puoi E poi ci smezziamo le cose fuori Che ansia Io sto per piangere Non lo so Erano equipaggiati a schifo Cioè erano equipaggiati benissimo Forse erano loro gli ultimi della città Dai dove si erano nascosti Abbiamo fatto tutta la città Viaggiando La stavamo Dopo che siano arrivati dal mare Non è che ci sono altri posti Cioè questa città Magari erano dei pirati E scusami Comunque ho dovuto buttare pure il nuovo fucile Lo proviamo in un altro video con più calma No io ce l'ho ancora Ve lo prometto Io ce l'ho ancora Perché no È troppo sto game Cioè 4 kill Una kill Continua a non ascoltarmi Io ce l'ho ancora Non mi interessa Non lo usi Non voglio morire per provare il fucile È un game troppo importante ormai Andiamo a vedere se nel ponte c'è qualcosa di utile Ok È bello il panorama È bello È bello Guardalo bene Mira con quel bel fucile che c'è in mano Dai che ammazzi qualcuno di sicuro Se oggi ti metti a mirare Sì fidati Non possiamo stare così fermi noi Perché poi c'è chi non ha te in testa Ok Lo so Ok Sembra anche singolo Come player Sembra singolo Ok Sembra che ci sia solo Ah ma l'airdrop Allora lo uccidiamo lì Aspetta È coperto Apri l'inventario per buttare qualcosa No Essere di quei furfanti E poi salta e corre Niente Lo inseguiamo? Sì dai Se solo sì Ok Ma chi è che ha fatto queste cose da criminali? Non lo so Forse lui Era una trappola questa Ok Allora Non buttiamoci troppo avventatamente Due pistole Che è che tanto non le voglio Ci sono andate infatti solo per queste cose che sbillucicavano le leggendarie Ehm No sì Dove si è andato? Il tipo non so minimamente dove si è andato Ha lasciato degli shield Dove fare Prendi 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 Minigun leggendario Oppure questo equipaggiato che ne basta la metà Bravo lui Fatta che mi metto qui dietro Ah c'è anche l'altro airdrop Non l'ha visto? Forse non l'ha visto O forse c'è andato e non lo so Sta facendo cose strane Non lo so È già aperto Autozone E io credo che me ne frego Ah no è perfetto sull'albero Ebbene in effetti era nascostino E costruiscono un botto a 345 C'è stata una mega rissa Sì vedo 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 Proprio mega rissa Siamo soltanto 15 vivi Fare Se troviamo qualcosa di bello qui Uh lì stanno ancora facendo rissa Ma totalmente No allora questa cosa però non potete farla Cos'è? Che si possa trovare la Desert Eagle Nell'hairdrop No Che cosa brutta Siamo un po' cattivi eh Dai che cosa brutta Cioè non è che fa schifo come arma Ma trovarla nell'hairdrop Un po' dà fastidio Un po' ti viene lacrimuccio Ok andiamo Fer Andiamo 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 Vorrei quasi incontrarli dei player adesso Proprio prima dell'end game Ma solo loro però Non che te ne ritrovi 4 team Tutti i miei No sì sì Un solo team Fight alla pari Certo 10 player Hanno ammazzato abbastanza Senti? Sì Aspetta Ah lì sopra lo vedi? Che fermo Ucciso Bravo Ma è morto? A terra Aspetta L'amico è un cespuglio Posso avere visione? Ok Eeeh È stato divertente Le chat sul cespuglio Lo adoro Sette lì Olè Mamma quanto mi piace Ok Calmi Eeeh Entriamo in zona Ok Pensiamo ad entrare in zona Io sono già in zona Ma io no Perché stanno facendo un po' di giri strani Ho costruito un po' davanti a te Sarebbe bello quel loot Ma lì c'è Ma cosa avevano? Vedo un po' leggendaria che sbrilluccica Eh Aspetta Beati Non si capisce neanche col cecchino purtroppo Già Oh mio 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 hard drop Stiamo venendo da te Veniamo a prenderti Ho paura Ho visto costruzioni alla sinistra Ho visto costruzioni comunque nella montagna Idea di dove posso non essere Quindi in entrambi i posti ci potrebbe essere uno dei team Speriamo di no Speriamo di conquistare questo punto bello 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 Sarebbe fantastico Sì E vediamo un po' Allora Ho visto billare Dov'è? Sono scesi di Stanno scendendo dalla montagna Sì però non li vedo Quindi Sono già giù Un po' strano No ma io li ho viste fare adesso Cioè stavo sbrilluccicando Qua c'è loot E anche molto Allora Steph Attenzione Steph C'ho capito che c'è loot è tutto Ma stiamo rischiando inutilmente Allora Allora C'è un hard drop lì giù Cerco di vedere Non li vedo Minimamente Cioè Lo so Nien che io Boh Strano Davvero strano Non capisco Uh lì l'hard drop è stato preso Steph Alla nostra destra Ok È stato appena preso Schifo Eh shield per te Lo prendo Sei dentro? Dentro la casa? Vieni dentro Ok Eccomi Ok Allora Quello equipo è molto buono Occhio Steph Bisogna tenerli d'occhio Che non ci vengono addosso Sì li ho visti Ok Allora Eh M16 blue Lo prendo volentieri Ce ne sono un sacco di M16 blue Eccoli lì che costruiscono eh Si stanno facendo la base Ok Cecchino ce l'abbiamo già Ok vieni via Vieni via Vieni via Non vorrei farmi vedere da loro M16 blue Me lo sono preso Ok Allora M16 blue Pomp E cecchino Cinque player vivi Continuano Quella base Ah non siamo dentro Non siamo dentro Grazie Non me ne ero accorto Vieni Prego Ok sappiamo a direzione Altra costruzione Alla destra di quelli E loro hanno gli RPG Ok Vediamo A noi per fortuna Un po' copre questa collinetta Però Hanno chi lato Quattro Sì Due contro due O due contro uno Contro uno Potrebbe anche essere Vieni giù Vieni giù Vieni giù Vieni giù Vieni giù Sono giù Sono giù Sono giù Sono giù Finché non ci vedono Abbiamo un vantaggio Ho provato a sniperarlo L'ho missato Ok Credo che mi abbia visto È probabile È giusto È giusto È giusto Sono giusto Sono giusto Due contro due Loro hanno la posizione giusta Le ha chiuso addosso Fortunati Maledetti Come sempre E hanno l'RPG Ok E quella non è una bella notizia Abbiamo un trampolino No Ti stanno muovendo Sì li vedo Intanto Occhio all'altro Ok L'altro è rimasto lì Perché continua a vedere costruire Che gli ho distrutto un po' la costruzione Però adesso mi riparo di nuovo L'altro dice che è rimasto lì quindi Sì Sta continuando a costruire Per forza Ok Continua a costruire Ho visto proprio la struttura in costruzione No ne sta facendo un'altra un po' a fianco a quella Ok Ok Vabbè quello che è sempre sta costruendo L'altro che fine ha fatto L'altro che lo si è rimasto dietro con i muri Comunque l'abbiamo colpito molte volte quello Ok Stanno sparando non so dove Ma scusami Sono due team diversi No 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 Sono insieme Hanno provato a colpire qualcosa Magari si dovevano togliere la visuale con un albero Ho capito cosa è del genere Eh Visto di nuovo È sempre È visto? Sì Appena sbucca un po' Colpito due volte Secondo me non ha più shield Ok Che fight che mettono ansia Cerchiamo di farli finire i colpi Eh a sto punto sì A sto punto sì Steph Oh Quanti ne ho secondo te? Io continuo a costruire Tanto se vogliono continuare Cioè c'è tipo 40 colpi Questo Steph Ho notato Copiscano più eh Guarda guarda Continua a distruggere Niente niente Fere Vieni Ok Andiamo? Sì vai Hai visto? Sì Cavolo mi hanno buttato giù Ah Cavolo Vabbè Una terra Due fortune La prima le RPG La seconda gli chiude addosso la zona No beh dai Comunque eravamo svantaggiati In tutto e per tutto Quindi almeno ce la siamo giocata bene Dai